Se non c'era il tuo mio nipote qua non c'era, io ti devo ringraziare, per me tu non sei un mio nipote, tu sei un angelo. Io voglio dire che si è trovato nel posto nel momento giusto e non ho parole perché talmente la gioia è tanta che abbiamo festeggiato il Natale assieme col bambino e grazie a un angelo che veramente quel giorno è stato lì, mi ha salvato mio figlio e ha fatto di tutto per mio figlio, il più possibile che ha potuto fare l'ha fatto e adesso mio figlio è insieme a noi che gioca, scherzi e ride e devo ringraziarlo davvero tanto. Questa è la parola che è più bella, questo è il miglior ringraziamento che poi uno può, non ci so parlare della mamma e della nonna migliori, di un ringraziamento di una cosa che succede così, i ringraziamenti vostri sono le più belle parole che ho ricevuto. Se non c'eri tu, guarda, per mio nipote, questa non sarebbe stata una festa, ora sì che è Natale per me, perché tu me l'hai salvato mio nipote. E' andato all'ospedale? Sì, il giorno dopo poi siamo andati all'ospedale, le abbiamo portato un pensierino che poi era una macchinina della finanza, un modellino della macchinina della Guardia di Finanza, così poi Rosario magari da grande si ricorda e pensa a noi, pensa quando vede la macchina, ci penserà un pochettino insomma, però già ci avevamo sentiti con la mamma, col nonno, ci avevano rincuorato che stava bene, il bambino che aveva ricominciato a mangiare, poi è stata una gioia vederlo proprio, quando siamo arrivati lì che Rosario era bello, pieno di vita, è stato bellissimo, anche io e mia moglie siamo rimasti veramente contenti. Ci pensai ancora la notte? Sì, veramente sì, 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 proprio adesso stavo parlando con mia moglie che ancora siamo contenti proprio per quello che qualcosa non è andata la cosa, siamo contenti, veramente. Ci pensiamo, ultimamente ci abbiamo pensato molto, molto proprio, effettivamente. E lei signora, dimenticherà questa cosa? No, non si può mai dimenticare un episodio così, perché la vita di un bimbo è la vita di tanta gioia, tanta serenità, tanto amore e questo episodio non si può dimenticare, io me lo vivo giorno per giorno, la notte non si riesce a dormire, perché ho paura che si ripete di nuovo questo episodio, ma per fortuna è andato tutto bene, per fortuna Dio e questo Signore qui, che è un angelo, veramente, ce l'ha salvato, veramente. Sono felicissima e ringrazio veramente di cuore. non riesco neanche a parlare dell'emozione che ho. Grazie. Grazie, tanti auguri, buon Natale. Grazie, tanti auguri. E spero che te... Ah, le cose belle per te. E' la tua famiglia. Grazie, tanti auguri. Grazie, tanti auguri, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Grazie.